Martedì 22 gennaio ancora ben trovati a un nuovo appuntamento dell'SOS Telebari la rubrica dedicata a tutte le vostre segnalazioni a tutti i vostri problemi abbiamo oggi con noi ospite in studio il presidente dell'AMI Gianfranco Grandagliano presidente buon pomeriggio a tutti gli spettatori vi ricordo come sempre che per intervenire basta chiamare lo 080 501 9998 e sarete subito collegati con noi e potrete immediatamente parlare con il presidente Grandagliano presidente che è stato ospite all'SOS Telebari solo due settimane fa numerose le segnalazioni giunte durante la trasmissione e su moltissimi di questi casi voi siete intervenuti a partire da Iapigia, giusto? Sì, 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 abbiamo fatto tutti gli interventi richiesti che ci sono stati richiesti dagli telespettatori che avevamo chiamati in trasmissione l'abbiamo documentato con delle fotografie proprio per attestare il nostro intervento così in modo tale che anche i cittadini sanno che noi interveniamo e comunque se dovesse ripresentare il problema non è una responsabilità dell'azienda che il servizio fa quindi abbiamo fatto anche le fotografie Intanto infatti prego la regia di mandare le foto con cui l'AMI ha documentato di essere intervenuta a Iapigia perché c'era stato un telespettatore che aveva chiamato molto molto arrabbiato per la verità perché ripetutamente aveva segnalato lo stato di degrado di un'area in via Peucezia, zona Case Popolari e adesso le fotografie ci dimostrano che effettivamente questo stato di degrado c'era e che però adesso per il momento quantomeno il problema è risolto con la speranza che i cittadini stessi contribuiscano adesso a mantenere pulita l'area E' ovvio che controlleremo in modo più attento anche i nostri operatori e comunque poi invitiamo i cittadini a evitare di buttare cartacce e quant'altro nelle ariole o per strada perché così facilitano il nostro compito ma in modo tale da non arricchere anche un pregiudizio all'intera cittadinanza Voi intervenite all'interno delle aree a verde perché stiamo vedendo adesso nelle foto gli operatori, è stato un extra in questo caso? E' stato un extra, noi interveniamo perché abbiamo la pulizia dei giardini tutti i giardini, però quelli comunali interveniamo E' ovvio che quelle pulizie non possono essere quotidiane sto parlando anche dei giardini cittadini perché per contatto di servizio abbiamo una frequenza che può andare al massimo ogni due giorni interveniamo un giorno sì e un giorno no e quindi è ovvio che per mantenere pulito i giardini e anche la città è necessaria la collaborazione dei cittadini 501 9998 per intervenire intanto appunto siamo contenti e speriamo insomma ad ogni puntata di cominciare con l'angolo della buona notizia e quindi di un problema risolto e ripeto naturalmente l'appello ai cittadini a essere il più collaborativi possibili e noi facciamo il nostro Anche le altre volte abbiamo intervenuto e non è solo per questa volta Però questa volta abbiamo chiesto di documentare con delle foto così insomma da dare una rassicurazione in più a chi ci segue Presidente visto che parlavamo appunto delle aree a verde come vi dividete in questo senso anche con la multiservizi nelle aree comunali così i cittadini possono sapere a chi rivolgersi Allora noi abbiamo la pulizia di tutti i giardini tutto il parco 2 Giugno tutti i giardini Piazza Umberto tutti i giardini diciamo della città è ovvio che la manutenzione del verde non spetta a noi ma spetta alla multiservizi Per questo le segnalazioni vanno indirizzate appunto all'ente All'ente, qualunque manutenzione del verde taglio di piante diciamo potertura di alberi è ovvio che non siamo noi l'azienda competente ma è la multiservizio E visto che ha citato Piazza Umberto Piazza Umberto è stato al centro delle polemiche nell'ultimo mese a partire dalla questione sicurezza ma si è parlato anche di pulizia qualcuno come per esempio i consiglieri di centrodestra hanno anche proposto di recintare l'area secondo lei potrebbe essere una soluzione qual è la situazione che voi trovate ogni mattina La situazione che noi troviamo ogni mattina è abbastanza grave perché è ovvio che ci sta una situazione di un giardino che viene vissuto anche la notte ci sono molti homeless che dormono nei giardini i nostri operatori si trovano la mattina ad affrontare dei problemi abbastanza gravi perché trovano i giacigli di questi signori gli escrementi di questi signori poi una serie di bottiglie perché poi durante la notte si riuniscono e praticamente si intrattengono bevendo, mangiando quindi trovano una situazione abbastanza pesante purtroppo anche nonostante il nostro intervento sia quotidiano almeno per i viali e comunque per i giardini dopo qualche ora ci troviamo una situazione la medesima situazione che abbiamo trovato la mattina quindi diventa abbastanza difficile per noi intervenire più volte al giorno è ovvio che là è un problema che va risolto non solamente dall'amio ma anche da altre autorità come può essere il questore, il prefetto perché il problema più grosso è che questo giardino viene vissuto di notte in modo particolare da gruppi di persone ma viene vissuto anche durante il giorno da altri gruppi di persone che stazionano sporcando e disinteressandosi dell'ambiente circostante prendiamo una telefonata la prima telefonata di oggi pronto? buonasera buonasera mi chiamo Daia Pigia sì allora mi complimento con il dottore in studio sì e gentilmente se può lasciare l'amio è prendere l'ambdab che va sempre a rotoli perché noi parliamo e non ci capiamo sì allora gentilmente che lei è una persona corretta sì anzi correttissima soprattutto sul lavoro perché noi così la conosciamo sì lei mi ispira tanta fiducia oppure parli con gli amministratori dell'ambda che non sanno fare un tubo senta signora la invito per chi accede sì signora però visto che questo noi proprio la settimana scorsa abbiamo avuto il direttore dell'ambda sì ma dalla settimana scorsa ad oggi i problemi sono aumentati senta io visto che questo comunque è uno spazio dedicato alle vostre segnalazioni se comunque vuole riferire la sua segnalazione noi ne prendiamo atto e la trasferiamo a chi di dovere mi rendo conto che magari non le potrà dare una risposta il presidente Grandagliano ma noi siamo qui quindi purtroppo tutto quello che io dico è tangibile sì quindi ecco perché invitavo il dottore a lasciare l'ambio e a sistemare l'ambda perché l'ambda giorno per giorno va a rotoli signora a cosa si riferisce in particolare c'è qualche problema preciso qualche linea vabbè non entro nel tema comunque allora il numero 9 per esempio ogni giorno salta la cossa quella delle 9 e 10 e quella delle 4 ieri sono andata a capolinea e ho chiesto che è successo dice no c'è solo una vettura allora ho detto scusate tutte quelle vetture ferme che servono per la scuola finché non si adoperino per l'orario scolastico non possono essere messe in funzione per sopperire tutte le mancanze che ci sono dice no gli straordinari chi li parte allora non è problema di vettura è problema di personale sposto per te fuori al gabbiotto dell'ambda è sporco ma non perché non puliscono perché noi siamo dei grandi sporcaccioni però anche chi sta lì al gabbiotto potrebbe anche dire signore per piacere le carte nei gestini manca la collaborazione sì io mi sono stancata grazie io chiamo ogni giorno l'ambda mi sfogo mi sfogo soltanto perché non si è fatto nulla ma non io sono messi che chiamo comunque dottor Gargaliano non sono sbagliato a dire il cognome no 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 prenda lei così possiamo respirare e complimenti per il suo lavoro grazie 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 mille signora grazie presidente ci scusiamo se abbiamo rubato qualche minuto però mi sembrava giusto raccogliere comunque la segnalazione della signora e mi fa venire in mente immagino che a lei avrà fatto anche piacere il complimento mi fa venire in mente mi scusi se ne interrompo che proprio la scorsa puntata quando c'è stato ospite come ricordavo il direttore dell'AMTAB Nunzio Lozito qualcuno ha chiamato per dire il fatto che in piazza Umberto in piazza Moro scusate proprio intorno al gabbiotto effettivamente si creano moltissime cartacce a terra perché la gente butta tutto a terra tant'è che chiedevano al direttore Lozito di girare a lei la domanda se fosse possibile mettere qualche cestino quindi ne approfitto adesso verifichiamo credo che vicino a Gabbiotto che è quello vicino alla stazione centrale credo che i cestini ci sono comunque diciamo li rafforziamo è ovvio che la mattina noi passiamo se la gente ha la pazienza anche diciamo la cortesia di non di non buttare la carta immediatamente o la cicla di segretta ma di fare qualche passo perché credo che ci sono giardini a pochissima distanza potremmo evitare quello scempio perché è ovvio che in quella zona c'è uno stazionamento di parecchie persone e quindi sarebbe impossibile riuscire a pulire più volte è ovvio che noi cerchiamo di intervenire e segnaleremo al nostro capozona la situazione e eventualmente installeremo dei cestini più grandi per evitare problemi ulteriori per quanto riguarda il personale è una lotta che facciamo anche noi in azienda purtroppo abbiamo dei limiti molto stringenti per la questione del costo del personale che incidono parecchie volte sul servizio dico sinceramente e sì anche l'AMTAB francamente ha lo stesso problema questo credo che sia un problema comune un po' a tutte le ex municipalizzate diciamo così prendiamo un'altra telefonata pronto buonasera buonasera Presidente una richiesta facile io abito quartiere libertà esattamente sulla via Brigata Bari vedo che lei ha detto che lì al rione come si chiama villaggio 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 di lavoratori e tanti altri rioni avete fatto la 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 della raccolta differenziata perché da noi non la potete fare forse sì grazie grazie allora ripeto il concetto perché in tutta la città di Bari è possibile fare la raccolta differenziata della frazione secca la raccolta differenziata completa cioè l'organico spieghiamo che cos'è la frazione secca la frazione secca sì chiedo scusa ma ormai mi entra la frazione secca tutta la città di Bari può differenziare i rifiuti che riguardano la carta il cartone la plastica il vetro e l'alluminio quindi quella è la frazione che può essere conferita in modo differenziato l'unica differenza che c'è tra tutta la città di Bari alcuni quartieri tra cui villaggi i lavoratori è che i residenti villaggi e i lavoratori di Iapigia Poggio Franco possono conferire anche la frazione organica in modo separato estendere la raccolta differenziata purtroppo comporta dei costi in particolar modo sotto il profilo del costo del personale quello che dicevamo qui stiamo parlando del porta a porta stiamo parlando del porta a porta la differenziata per tutta la città è stradale quella dove c'è anche la frazione organica abbiamo il cosiddetto porta a porta o domiciliare e credo che sia quello a cui si riferisce poi il signore che ha chiamato no perché molta gente dice ci è capitato perché i nostri vigili ambientali stanno girando per verificare oltre l'operato dei nostri dipendenti anche il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e ogni volta che ferma qualcuno in quartieri come il quartiere di Muraterano o Libertà dicono ma qua mica c'è la raccolta differenziata invece la raccolta differenziata è per tutta la città il problema riguarda l'estensione della raccolta cosiddetta porta a porta o spinta per l'intera città purtroppo è un costo abbastanza rilevante estendere in questo modo stiamo verificando nei limiti delle risorse economiche che nell'ambito della spending review il comune ci mette a disposizione di estenderla piano piano nei diversi quartieri abbiamo ipotizzato di estenderla inizialmente l'anno prossimo al quartiere di Madonnella ma stiamo parlando sicuramente dopo l'estate e ovvio che il quartiere di libertà è molto più complesso perché ha una configurazione urbanistica tra virgoletta mista tra dei quartieri in cui è necessario fare una raccolta porta a porta ma anche con la raccolta a sacco come può essere nella zona di via Bruno Bozzi e quant'altro zona tribunale e una zona come può essere San Girolamo e quant'altro zona nuova in cui potremo trovare un sistema di raccolta differenziata mista col domiciliare come la facciamo a villaggio dei lavoratori quindi buona sostanza il problema sono i soldi fondi è sotto il profilo economico perché per estendere la raccolta differenziata bisogna incrementare il costo del personale che in questo momento non possiamo fare perché abbiamo dei limiti stringenti da parte della normativa vigente e ci dispiace dare questa notizia al telespettatore che insomma esprime anche un desiderio assolutamente legito e condensibile sì ma può fare comunque la differenziata posso anche invitare il telespettatore che comunque può fare comunque la differenziata anche della frazione organica perché sono operativi presso i nostri centri di raccolta e diciamo gli sportelli che raccolgono tutti i rifiuti differenziati tra cui anche la frazione organica e se porta i rifiuti differenziati avrà pure dei punti che poi consentiranno di raggiungere di raggiungere anche i premi come il buono spese di 10 euro e questo lo ricordiamo tra un po' perché su questo argomento torneremo ad ogni puntata perché molti non lo sanno invece ci teniamo a promuovere i centri di raccolta punti però prendiamo un'altra telefonata pronto a presto a presto Grazie a tutti.